La mascherata che proponiamo quest'anno per il Carnevale di Via Reggio 2024 si intitola Camaleontici, l'abilità nel mutare. Praticamente sono sei camaleonti, come tutti i camaleonti, tutti i rettili, sono abili nel mutare, nel cambiare di colore e noi li abbiamo accostati ad alcuni politici internazionali, perché i politici, come anche alcune persone, sono molto abili nel cambiare pensiero, nel mutare. Perciò sono camaleonti che apriranno le bocche e dalle loro bocche uscirà la loro lingua. Sopra la lingua ci saranno le teste di alcuni politici internazionali. La particolarità di questa mascherata è che, come i veri camaleonti, cambieranno colore.